Quindi questo viene dall'America? Esattamente Canada America Ah dal Canada? Canada America Ah ho capito Forse per questioni della neve in Canada, per questioni proprio logistiche? Guarda, sulla neve ci vai con sicurezza perché non cadi Però chiaramente è sempre una moto Sulla neve direi che non è il mezzo perfetto per andare sulla neve dove fa freddo Comunque è un baricentro molto largo È stabilissimo Assolutamente stabilissimo Ha un controllo di trazione, ha un controllo di ABS Tu ti trovi con la tua azienda dove vendi questi importi e vendi questi CNAM, questi prodotti Ti trovi a Pavia, hai detto? Noi siamo la sede centrale di Pavia, la sede del Victory Team Però abbiamo aperto anche a Roma Fiano Romano Fiano Romano, vicino a Roma, verso nord Sì, Garage 4 di Fiano Romano, esatto Grazie, un saluto da Alina e Andrea Giannini Ciao Grazie, ciao C'è un raduno domani sera e sabato sera in tutta Roma con gli Spider, i Quad, i Buggy, le Harley e sarà veramente un macchino In che zona esattamente? Partiamo da qui dall'ingresso alle 6 e alle 7 partiamo, dalle 6 alle 7 ritrovo Dalla Fiera di Roma? Esatto, con la collaborazione della rivista InMoto Passerete per dove? Sì, via Largo Colombo, Corso Colombo Via Cristoforo Colombo Da lì entreremo in centro Al centro, San Giovanni, quindi arriverete La tappa finale sarà dove? Piazza del Popolo Colosseo Quindi domani verso le 7, le 8 sarete tutti al Colosseo Ci aspettiamo lì Colosseo sul Tardi, verso le 11 Verso le 11 Il round sarà molto lungo Per il centro Bellissimo Sì, sì, una passerella nuova Quindi domani sera E ci sarà un quad con 1000 watt di musica Quindi passeremo Facendo ballare tante persone Verrà anche Alina Alina, certo